ragazze buonasera e buon martedì 3 di gennaio 2023 ragazze siete pronte? guardate un po' che bella vetrina poi la trovate postata nelle stories nei reel sul profilo ragazze siamo pronti ho finito di fare lo scarico ma poi la roba che mi è arrivata parliamone ragazze vi devo far vedere per forza allora ho fatto pure la photo look of the day di oggi con questo mio outfit tanto amore tanto amore i jeans strappati bellissimi in promo ma ragazze questo stivale scamosciato con questo tacco a banana è il tacco dell'anno questo comunque leggermente a banana un po' più larghetto scarpetta a punta tessuto scamosciato 19,99 euro ragazze guardate quanto sono belle no cioè tutte le scarpe in promo 19,99 euro guardate che lavorone che ho fatto stamattina mi sono sistemato tutte quanto le scarpe e poi abbiamo risistemato tutto quanto il negozio guardate guarda 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 ragazze noi siamo pronti allora vabbè cominciamo visto che sono partita con le scarpe vi faccio vedere il mio look of the day di oggi questo maglioncione con i cuori lo abbiamo tanto amato il collo è alto il collo è altissimo ma molto molto morbido a coste bello caldo ho scelto la nuance sul rosa il celeste e il panna ancora disponibile la versione con il nero questa è quella che indosso io poi c'è il verde poi c'è il celeste il sabbia ragazze ancora disponibile questo modello qui che è veramente caldissimo Burian non ti temo aspettiamo il freddo perché tanto sta per arrivare l'inverno ormai è arrivato per quanto riguarda il jeans ragazze modello push up questo qui c'è arrivato bello bello sempre in promo ragazze il jeans con gli strappi proprio come questo che porto io c'è arrivato fino alla taglia 54 adesso ce l'abbiamo tutte a partire dalla 36 fino alla 54 il jeans modello skinny vita medio alta modello push up blu scuro fantastico e poi vabbè sto stivale che ve lo devo dire no non ve lo dico vabbè non ci perdiamo in chiacchiere perché ragazze io ho ancora tutti questi articoli da farvi vedere perché li ho sbussati ma poi ragazze aspetta aspetta io sono impazzita 12 euro e 99 questa me la sono presa perché è gigantesca tutti i modelli di borse ragazze non ce ne sono tantissime con le catene ecopelle ma ecopelle quella bella corposa che regge benissimo modelli con le catene 12 euro e 99 in promo correte ragazze correte mega promo anche sulle borse ragazze guardate quanto è bella questa no questa è bellissima con tutte le catene con le tracolle vabbè le borse ve le ho fatte vedere allora qui abbiamo visto un po' tutto abbiamo sistemato dopo vi devo far vedere pure qualche maglioncino new entry sempre in promo manica a palloncino maglione giro collo misto modal quindi ottimo perché è bello caldo e soprattutto è bello compatto quindi non si sgrana e soprattutto volendo fa anche questo questo modello qui di maglione fa completo con i pantaloni in tessuto di lanetta che ci sono arrivati ragazze è disponibile questo modello qui leggermente morbido quindi è fantastico anche per chi ha il seno un po' più grande disponibile nella versione panna nella versione sabbia nella versione nera nella versione marrone e brociata uno più bello dell'altro i colori ragazze guardate che belli spolverino ultra soffice ultra compatto bello caldo pur essendo fino di spessore ragazze veste benissimo questo modello qui ce l'abbiamo in titta unita guardate che belli i disegni il verde acqua il bianco il rosa il marrone questo è veramente da abbinare su tutto grigio blu questo su gizza sarebbe perfetto taglia unica ottima la vestibilità di questi modelli qui di spolverino che vestono benissimo basta metterci una spillina una centina e vi chiudono perfetto questo modello qui è al nero la lunghezza è quella giusta copre le chapette e arriva praticamente un po' più su della metà coscia perfetto guardate quanto è bello pure questo col verde acqua il nero questo arancio bello 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 taglia unica ottima la vestibilità soprattutto ottimo il tessuto perché sono veramente compatti new entry con i taschini per le mie amante dei taschini per chi mette il fazzolettino il cellulare non lo posso lasciare con l'eggings non so dove appoggiarlo ecco questo c'ha pure le taschine collo ad anello anche questo modellino qui ha il collo ad anello che rimane molto molto morbido grazie alle coste che sono veramente ampie ma si vede proprio indossato sulla stampella pure ragazze modelli morbidi soffici misto viscosa e modal questo fucsia è bellissimo ma ce l'abbiamo disponibile anche nella versione cammello eccomi qua finalmente mi sono spostata disponibile come stavo dicendo nella versione cammello disponibile mi sarà agganciato nella versione nera ovviamente non può mancare il grigio ragazze e guardate questo turchese è fantastico ragazzi colori nuovi new collection in saldo disponibile anche nella versione latte e nella versione verde prato taglia unica con un'ottima vestibilità io vorrei ricordarvi il tessuto che è veramente morbidissimo morbido 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 e poi ancora giro collo leggermente più cortino delizioso questo modellino qui da mettere su un jeans da mettere anche su una connellina anche sulla gonna a tubino questo sarebbe benissimo un po' bon ton con questa lavorazione punzicchiata e questo disegno a v con questo cannolè che va a chiudere leggermente nella parte di sotto ragazze è delizioso il cannolè che lo ritroviamo anche sulla manica e quindi va a chiudere la manica leggermente appena appena l'effetto a palloncino taglia unica anche questo modellino qui questo è veramente delizioso su un jeans a vita alta ma anche su un pantalone d'ecopelle a vita alta questo sarebbe benissimo disponibile nella colorazione verde acqua rosa cipria carta da zucchero bello cammello no vabbè questi sono deliziosi questo pure come sotto giacca è carino e poi ancora nella versione grigia nella versione latte quest'anno va tantissimo questo latte ragazze nella versione nera guardate pure sul nero l'effetto tridimensionale delicious come è l'abbiamo messo pure sul busto del tavolo cioè questo col verde è bellissimo ragazze mamma mia quanto mi piacciono cardigan morbido guardate quanto è ampio quindi questo è il vero cardigan un po' quello anni 80 con i bottoni grandi con lo scollo a V col profilo largo col cannolè che rimane morbido con la manica un po' a palloncino disponibile nella versione con il verde disponibile nella versione con il fucsia disponibile nella versione con il cammello bello 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 ma un prezzo poi no scontato veramente pochissimo allora e adesso passiamo al lungo modellino che rimane ampio questo è perfetto pure da mettere sopra i leggings ha un cannolè importante che però non va a chiudere cioè non è di quelli stretti vedete ha una costa larga disegnata qua quindi rimane pure morbido modello che ha le tasche questo sarebbe perfetto io già me lo immagino con un bel cintone ma anche buttato lì sul jeans senza andare a mettere la cinta quei giorni in cui uno si sente un po' così modellino che ha il collo a taglio vivo che vuol dire che può essere messo anche con la spalla ascesa già do disponibile nella versione cammello nella versione verde tavolo da gioco ragazze n'è vero nella versione amarena nella versione nera e nella versione latte questo pure con una bella dolce vita sotto perché comunque rimane un po' più finito questo è misso viscosa e quindi volendo si può sovrapporre col fatto che ha questo scollo un pochino più largo anche con una dolce vitina perché no anche con lo smanicatino che abbiamo visto ieri quello di lanetta che c'è colorato e questa è la versione più lunga a spolverino del cardigan che abbiamo visto prima la lavorazione è sempre la stessa con i profili questo modello qui non ha le tasche no non ce l'ha le tasche però c'ha sempre la manica a palloncino il disegno è sempre quello e il tessuto pure è quello fantastico che comunque può essere messo tranquillamente sotto al piumino sotto la giacca sotto al cappottino ragazzi lo mettete sotto a tutto perché è bello compatto è bello caldo ma non è di quelli che ingoffano e questo lo amo vestito lungo di maglia dice sì ma è semplice sì ma le cose semplici sono sempre quelle più belle vestito lungo di maglia giro collo maglia misto modal quindi è caldissimo sofficissimo ragazze manica leggermente appena appena a palloncino disponibile nella versione nera nella versione sabbia questo lungo da mettere su leggings ma anche senza leggings tranquillamente disponibile nella versione marroncino bruciato disponibile e poi ancora ragazze ci spostiamo perché già abbiamo fatto l'allestimento abbiamo già inserito è lo stesso tessuto di questo maglione che porto io indosso col modal con la fantasia anche questo ha un collo bello importante a contrasto come il cannolè che ritroviamo sia sulla manica sia sulla parte di sotto maglione a fantasia ultra soffice assolutamente non pizzicano ragazze si portano benissimo anche a pelle io poi sotto ci metto come al solito le nostre magliettine del girello però modellini giro collo con questi assolutamente non mi pizzica sul collo disponibile a questo modello guardate che belli il tripudio di colori in questa grechetta in questa fantasia che ricorda vagamente una grechetta bello grigio salmone latte nero e poi ancora celeste marroncino con la predominanza ovviamente del celeste e poi ancora il panna con il verde questo è bellissimo sai quelli proprio morbidi soffici caldi avvolgenti proprio come questo che porto io ragazzi questo leggermente più morbidino anche rispetto a questo che rimane un po' più sagomato perché è un po' più lunghetto questa è una puntina proprio appena appena più corto un pochino più ampio proprio sofficioso morbido avvolgente ecco il termine è giusto avvolgente guardate che bello col nero no vabbè guardate che bello questo su un jeans fantastico ritornando poi da questa parte ragazze io lo amo cioè guardate la lavorazione sulla manica da per tutto giro collo guardate come sono morbidi top modellino che rimane ampio con questo cannulè così morbido mi piacciono tantissimo perché comunque si possono andare a sblusare guardate questo è ultra soffice e anche fino pur essendo caldissimo manica palloncino con tutta questa lavorazione che è veramente incredibile modello che abbiamo disponibile nella versione rosa nella versione latte nella versione verde acqua e nella versione nera e poi ancora perché non finisce qui ragazze allora vabbè tiriamo fuori perché se no non si riesce a farvi vedere da lì sto facendo il capo questo modello ragazze purtroppo non rende tantissimo sulla stampella ve lo faccio vedere se ci riesco sul busso perché l'abbiamo messo in vetrina è una cosa pazzesca per quanto è bello ha un collo altissimo che è veramente molto molto importante vedete quanto è morbido questo poi indossato rimane così quindi leggermente sagumatino best è benissimo sempre misto viscosa modal ultra soffice collo vedete quanto è alto questo volendo però può essere addirittura messo sceso sulla spalla cioè ragazze con questi con questo effetto a cannolè rimangono ultra morbidi modello che rimane lungo il giusto questo arriva a metà sagumatino guardate che bello il cannolè lungo lo ritroviamo anche sulla manica e nella parte di sotto quindi leggermente questo va a chiudere fascia un pochino sui fianchi ma sta benissimo il fatto che abbia questo cannolè così ci dà anche modo di poterlo leggermente sblusare quindi fare quell'effetto col cannolè che rimane un pochino più fasciato sul fianco e il maglioncino che abbonda un pochino sopra è bellissimo questo indossato ragazze lo so ve lo faccio vedere così capite meglio perché questo è da vedere indossato per quanto è bello perché così non rende proprio disponibile nella versione blu elettrico poi che colori disponibile nella versione arancio guardate come spara sta arancio è bellissimo disponibile nella versione nera nella versione verde prato nella versione rosa cipria ragazze c'era disponibile pure bianco è già finito lo stiamo rimandando in ordine allora 19 e 25 circa ragazze no non vi ho fatto vedere allora per tutte quante quelle che me l'hanno chiesto che hanno adorato le nostre perché erano calde perché erano belle compatte perché erano belle felpate all'interno vi dico mi sono arrivati finalmente i pantaloni della tuta con la stessa pesantezza ragazze veramente bello compatto caldo e ultra soffice allora 19 e 30 circa ragazze devo finire di pubblicare sto pubblicando su facebook su instagram su tiktok io a questo punto vi lascio ci vediamo domani mattina mi raccomando io vi aspetto correte perché adesso ho il negozio bello carico e quindi i saldi sono ufficialmente partiti abbiamo messo già la scritta ragazze io vi sto soltanto aspettando rgn la vera succeda ma non è tutto ci vediamo a domani ciao